Il Collegio dei Giovani di Avellino ha voluto commemorare in questa giornata i due nostri colleghi. Il mister Bruno Pericolo che ci ha lasciato l'anno scorso e il collega consigliere Peppino Forgione. Siamo arrivati all'ottavo Memorial. Il ricordo di questa giornata è che gli atleti over 35, per questo siamo presenti con noi e abbiamo giocato. Hanno voluto commemorare questa giornata con un triangolare, con la partecipazione del figlio di Bruno Pericolo Ottaviano e della signora moglie di Peppino Forgione Lucetta, che ogni anno ha voluto presenziare questa manifestazione. Grazie a tutti. 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 Tucci Pericolo della vecchia Mogavero Marra. Grazie a tutti. 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 Allora siamo giunti all'ennesimo torneo Memorial di Peppino Forgione, con quest'anno c'è stata una variante in tutto questo, si è aggiunto a questo torneo un altro Memorial, purtroppo, perché l'anno scorso, proprio in questo periodo, credo, Ottaviano, dove sta? Proprio in questo periodo, purtroppo, abbiamo perso Bruno, il nostro grande Bruno, quello che ci ha accompagnato per tanti anni in questa avventura calcistica e che stranamente, probabilmente, quest'anno non partecipiamo al torneo, anche forse per questa nostra perdita, probabilmente, tra le altre. Quindi, quest'anno ci accomunano due cose, per cui voglio ricordare ambe due, perché ambe due per noi sono state delle guide, uno dal lato calcistico e anche tecnico, l'altro dal lato tecnico, per cui credo che un applauso a loro vada... Quest'anno ulteriormente ci siamo un po' divertiti in casa, mentre gli altri anni abbiamo chiamato altri collegi della nostra regione e anche oltre regione, quest'anno abbiamo deciso di farlo tra di noi, con un po' le vecchie glorie di quello che era stata la nostra squadra. Per cui passo alla premiazione, dobbiamo consegnare una targa alla moglie di Peppino, Lucetta che, come tutti gli anni, ci ha sempre accompagnato e quindi la ringraziamo per questo, per aver accettato ulteriormente, affinché si facesse questo torneo anche nell'ora di Peppino. Per cui richiamo Massimo Ricciardi, il nostro ex segretario, ma per noi sempre segretario, a premiare Lucetta con la targa. Prego Massimo. E' questa? Sì, non mi fate sbagliare. Grazie. 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 A presto. E poi abbiamo avuto l'onore anche oggi di che partecipa con noi al nostro torneo l'architetto Pericolo, forse l'unico neo è quello di essere l'architetto Pericolo, che è il figlio appunto dell'amato Bruno. A quale chiamo a consegnare la targa il nostro consigliere nazionale Ezio Pialde Tosi e oltre alla targa, ricordo questo per Bruno, da mettere tante foto che lui ha nello suo studio, perché per noi sta ancora là, per noi è come se stessi ancora là, come penso anche per te, e quindi questo te lo consegno io, questo te lo consegno io, con grande piacere. Grazie a te anche per la partecipazione. Grazie a voi, grazie a voi. 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 Grazie a voi.